ciao amici bentornati su festecomplani.com io sono il vostro Mr. Nani la puntata di oggi è dedicata a tutti voi amanti della banularte professionisti e non è mai capitato a qualche festa qualche evento di ricevere una richiesta particolare del tipo la sai fare una macchinina con i palloncini da oggi si seguite il nostro video tutorial per imparare a realizzare in pochissimi minuti una macchinina con i palloncini completa in ogni sua parte pronti partenza via cominciamo subito con la base della nostra macchinina facciamo due palline con la torsione d'orecchio una salsiccia lunga e altre due palline con la torsione d'orecchio grazie un palloncino di quelli classici da 260 lo fissiamo in questo punto e con tre salsicce divise con la torsione semplice faremo la parte superiore della nostra auto grazie 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 realizziamo un totale di quattro ruote ovviamente e le fissiamo in questi punti della macchinina grazie grazie su grazie 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 come avete visto in pochissimi minuti abbiamo realizzato una macchinina completa in ogni sua parte quattro ruote parte centrale e carrozzeria vi ricordo che potete trovare questa e tantissime altre sculture anche sul nostro sito internet dovete cercare www.festecompleanni.com inoltre se ancora non l'avete fatto dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale youtube feste compleanni per non perdere nessuna delle nostre novità amici piloti e non solo per oggi è tutto un saluto dal vostro mister nani e dalla super macchinina automobile fatta con i palloncini